Ciao ragazzi, ciao benvenuti qua a casa Andrew Libertini, anzi direi più studio Andrew Libertini perché qua io registro di tutto e di più. Di solito appunto registro, faccio le mie registrazioni vocali essendo più un cantante che un chitarrista, però dato che ho la voce a terra perché il tempo me l'ha distrutta quindi corde vocali e voce da buttare, allora in questo periodo mi sono messo a suonare un po' di più e oggi voglio presentarvi un pezzo in acustica che si chiama Ears of the Cat di Hall Stewart un pezzo degli anni 70-75, intorno a quella data lì e questo pezzo appunto io vi andrò a presentare la chitarra di accompagnamento acustica più la solo, infatti questo pezzo durerà appunto un minuto, un minuto e mezzo che è la parte centrale della canzone che è un bellissimo strumentale di una tastiera, una chitarra cleaning che io andrò a fare in acustica, poi ci sarà una chitarra distorta, io continuerò a fare accompagnamento e poi infine ci sarà lo splendido sax, questa base è fatta interamente da me con il Cubase dato che lavoro molto con questo programma e intanto io vi presento questo pezzo, un buon ascolto quindi Ears of the Cat Ears of the Cat Ears of the Cat Ciao, alla prossima!